e ben ritrovati a 123 occhio all'evento siamo a marzo e a marzo si festeggia l'arrivo della primavera la festa del papà ma soprattutto la nostra festa l'otto marzo festa di tutte le donne e noi qui ad occhio all'evento negli anni scorsi abbiamo parlato di donne attraverso l'arte della fotografia e l'arte della pittura quest'anno ho deciso che volevo mangiare ancora tutte le nostre donne attraverso altre forme d'arte ma lo facciamo tramite le storie di tre di tre donne di tre bellissime donne che sono che sono qui con età differenti ognuno accomunate proprio dalla grande passione per l'arte come vedremo sono arti diverse ma loro riescono veramente con la dedizione ma soprattutto con la passione che hanno a raggiungere tutti i loro obiettivi e allora andiamo a conoscerle iniziamo con letizia merlo ciao laura ciao grazie per averci ospitate ma figurati è un piacere e poi carlotta mariani giovanissima ciao carlotta e infine anna martinenghi ciao laura io sono l'età differente no no noi due siamo giovanissime siamo coetane quindi allora vai tranquilla che poi va una più bella dell'altra poi con questa immagine di sfondo che è significativa bella ma molto significativa proprio il simbolo della lotta contro la violenza delle donne però stavolta vogliamo parlare di qualcosa di bello di storie belle di storie dove le donne riescono con la loro tenacia a raggiungere tutti i loro obiettivi e anna iniziamo con te voglio che tu sia quella che rompa i ghiacci insomma visto che devi dimostrato anche le altre giovanissime ragazze abbiamo parlato d'arte e l'arte che ti riguarda è l'arte della poesia l'arte della scrittura come è nata questa passione anna allora ho avuto passione per le parole ho iniziato a a scrivere prima di andare a leggere a scrivere prima della scuola grazie a delle zie maestre e questa cosa ha sempre corrisposto a un grande piacere collego la scrittura e la lettura al gioco quindi mi piace sempre ovviamente per prima è venuto l'interesse per la lettura perché le storie racconti le favole ampliavano la fantasia davano insomma degli stimoli in più e poi per anni la scrittura è stata una cosa molto personale serviva per fare ordine una specie di meditazione di riflessione molto personale c'è avuto del tempo per arrivare alla pubblicazione cioè a rendere pubblico ciò che senti e ciò che scrivi che è un passaggio fondamentale e quando c'è stato questo passaggio che come come ti ha perché da quello che ho capito era quasi forse una forma quasi terapeutica all'inizio scrivere poi quando c'è stato il passaggio quando hai capito che eri pronta c'è voluto nel tempo e non è stato neanche merito mio in realtà un mio amico ha mandato una mia poesia a un concorso di una casa editrice toscana questa poesia ha vinto il concorso e la premiazione consisteva nella pubblicazione di una raccolta da lì è cambiato il mio rapporto con la scrittura è diventato pubblico cioè proprio letteralmente è diventata una cosa condivisa nel tempo la scrittura mi ha dato moltissimo però penso anch'io di aver dato molti chilometri e molto tempo perché avendo fatto scelte differenti poi ho deciso di intraprendere un percorso di formazione mi sono cercata dei maestri anche importanti delle persone significative per dei vari linguaggi e mi sono misurata con la narrativa con angela sabella e lo scrittore rao montanari che una scuola magnifica a milano con la scrittura drammaturgica con il regista marco de stefano e chiara boscaro e poi il teatro zelig di milano per il linguaggio comico e dei maestri sono stati molto significativi e importanti e poi il rapporto con i lettori perché queste piccole pubblicazioni con case editrici piccole perché comunque la poesia i racconti sono abbastanza di nicchia hanno significato il comunicare in maniera non superficiale con le persone che credo che di questi tempi sia importantissimo e poi non ultimo le collaborazioni che sono davvero la ricchezza l'arricchimento letterario ma soprattutto a livello umano con le scuole sto facendo dei percorsi di scrittura creativa con i bambini nelle scuole primarie di soncino e ombriano in questi mesi i bambini sono molto esigenti i bambini poi sono terribili non ti fanno scappare nulla e poi anche con il teatro con il mondo della danza insomma io se mi chiedono cerco di partecipare di misurarmi con tutto e poi fondamentale la collaborazione con la scrittrice barbara garla schelli che è una scrittrice importante finalista al premio strega premio shambanenko finalista in questi giorni al premio wandi che da anni apre il suo spazio il suo sito web www.sdiario.com a scrittori anche importanti e meno come la sottoscritta Sdiario è un'esperienza di internet e dei social gli scrittori che lavorano su Sdiario si definiscono sviaggiatori e pubblicano ogni giorno un racconto una storia come se fosse davvero un diario e non paga di questa esperienza la barbara nel 2017 è riuscita tramite la casa editrice edizione del gattaccio a ottenere una collana che si chiama Sdiario che ha pubblicato quattro titoli nel 2017 due sono riedizioni di romanzi importanti di Nicoletta Valorani, Le sorelle sciacallo e di Barbara frammenti e due antologie di racconti uno degli sviaggiatori che si chiama In viaggio e la mia raccolta di racconti che si intitola Sei troppo grande per capire certe cose quindi credo di aver ricevuto moltissimo dalla scrittura ma anche di aver dato e di dare perché la scrittura come i bambini è molto esigente quindi non si è contenta del poco Assolutamente, tu pensa Anna, tanto che parlavi io stavo proprio pensando come le cose quando si passa al destino non capitano per caso, tu sei proprio partita con il bisogno di scrivere per te poi da un evento come stavi dicendo quasi casuale apparentemente sei arrivata ad affrontare anzi a collaborare con persone veramente importanti per quanto riguarda la poesia quindi pensa quanta strada hai fatto, quanta tenacia tu ci hai messo però i tuoi sogni li stai raggiungendo li stai anche vivendo Sì, è importante secondo me quando si ha passione cercare di veramente essere presenti in questa passione cercare di crearsi un percorso, di misurarsi anche con quelle migliori di te che ci sono sempre ovviamente di fare esperienze differenti e di filtrarle attraverso la propria sensibilità io sono partita il mio linguaggio principale, quello a cui sono più affezionata anche se non mi ritengo un poeta è comunque la poesia, mi ritengo una persona in cerca di poesia e credo che la poesia sia prima di tutto un'esperienza universale delle nostre vite e poi lo scrivere è appuntarsi questa esperienza importante e cercare di trasmetterla e condividerla con altri Anna, quando tu, proprio anche parlando di poesia, ti senti ispirata, cioè come nasce una poesia? Per quanto mi riguarda, e posso parlare solo per la mia esperienza, è una cosa molto immediata infatti io mi scrivo sulle mani, mi metto i messaggi sul telefono quando arrivano le parole che non sembrano neanche pensate cerco di intervenire pochissimo, anzi tolgo, cerco di lasciare l'essenza e quindi le inseguo, sono loro a venire da me, non sono io che le penso non sono una di quelle che costruisce, ho magari ispirazione da quello che vedo quello che provo, uno sguardo, un'esperienza, un'immagine che poi, come ti ho detto, prendo un appunto di quello che mi capita di quello bello o significativo che mi succede bello, allora a proposito di poesia, siamo l'8 marzo, io so che ci hai portato un regalo sì, allora, ero indecisa fra uno scritto che celebra la bellezza delle donne ma credo che le cronache di questi giorni che sono quotidiane le violenze che si susseguono, che diventano numeri, statistiche e che sono, sembrano non fermarsi mai fosse importante sottolinearlo che non dobbiamo abituarci a questi numeri, a queste statistiche perché dietro ci sono nomi, ci sono vite, ci sono storie e dobbiamo reagire continuamente perché le cose cambino la poesia, se vogliamo così definirla, si intitola Non si contano più Non si contano più Occorrono dita di troppe mani Mani sui volti, mani addosso Mani che strapano il cuore dal petto Biancaneve è il cacciatore Ma la neve non è più bianca E il cacciatore ha le dita insanguinate Non si contano più Mani giunte che pregano di non farlo Mani sulla bocca Mani che frugano, stringono, soffocano Non si contano più Storie che diventano cronaca Violenza che si fa abitudine Nomi che diventano numeri Da contare sulle dita di quelle stesse mani Che ci sono state date per accarezzare Bellissima La poesia è bellissima Veramente molto bella e toccante Perché purtroppo è vita come dici te È cronaca Ma noi siamo qui proprio per dire che dobbiamo reagire E dobbiamo vedere sempre la possibilità Che noi non siamo soli Con la forza, con la passione che voi mettete Per fare chi la danza Chi il canto Chi la poesia Noi abbiamo la forza anche di mettercela Per cercare di uscire da queste storie E ne sono convinta perché non siamo sole Non siamo sole Abbiamo avuto anche il piacere e la fortuna di conoscere delle realtà Nel nostro territorio che aiutano proprio queste donne in difficoltà Quindi veramente abbiate la forza di farcela Metteteci veramente la passione di cui noi donne siamo capaci Che qualcosina pian pianino si riesce a fare Dai noi ce la mettiamo tutta Ti chiedo l'ultima cosa perché so che tra l'altro devi andare via Hai parlato te dell'ultimo tuo lavoro Sì E so che sabato 10 marzo ci sarà una presentazione Vuoi dare tu? Fai vedere innanzitutto il libro Ricorda il titolo Sei troppo grande per capire certe cose Edizione del Gattaccio di Milano Ci sarà sabato 10 alle ore 18 a Crema In via Griffini 1 alla libreria La Storia di Simona Lunghi Che è una libreria che è aperta da poco E la Simona è una vera libraia Di quelle che hanno passione per i libri e per quello che fanno E sarà un incontro particolare Perché ci saranno ospiti Ci sarà un reading Quindi vari talenti E anche sorprese Che vi invito a venire a vedere e a condividere Per cui grazie E grazie a Laura per questo spazio Ma ci mancherebbe Grazie a te bisogna dare spazio a queste donne Che hanno voglia di fare Ma soprattutto che mettono passione Perché secondo me veramente La chiave di lettura della vita è la passione Se uno ha la passione Gli obiettivi riesce a raggiungerli Ma soprattutto sta bene Vive bene Riesce veramente Ognuno di noi ha una dote diversa Non siamo tutti uguali Ma queste doti Se incanalate bene proprio con la passione Riescono a darci tante belle soddisfazioni Come quelle che abbiamo visto Dette proprio da Anna E quelle che vedremo con le altre nostre due ospiti Anna Io ti ringrazio ancora di essere stata qui So che devi scappare Ti salutiamo Un bacionissimo E alla prossima E adesso andiamo avanti Andiamo avanti con la più Più giovane del gruppo Bellissima Lei dolcissima Carlotta Mariani Ciao Carlotta Tu sei così dolce Così brava Ma hai una bella responsabilità Perché tu sei Campionessa nazionale Balli da sala Categoria 13-15 anni Giusto? 12-15 anni Del 2017 Ma complimenti Grazie Fai vedere questa bella medaglia? Bah Bellissima Campioni nazionali Carlotta Carlotta Allora tu sei giovanissima Ti posso fare la domanda Quanti anni hai? Io ho 12 anni 12 Ma sei giovanissima Tra l'altro la mamma e il papà sono qui fuori Quindi loro sono lì che ti controllano È giusto? Ma la più emozionata è la mamma Vero? Ti stai dicendo No Carlotta è emozionata La più emozionata era la mamma Ascolta Carlotta Sei giovanissima Che scuola frequenti? Io frequento la scuola Galmozzi di Crema E vivo attualmente a Crema Quindi sei qui Vivi a Crema Studi a Crema Però ti alleni anche Io mi alleno a Izzano Nella scuola di emozione danza Di Elena Pariscenti Mirko Grandelli Che sono i miei insegnanti Che sono i tuoi insegnanti Ascoltami Come è nata La tua passione per la danza? Perché tu sei giovanissima Quindi come è nata? È nata con te? No Proprio perché mi mamma Quando ero piccola Ballavamo insieme sulle ballere Alle feste Però anche perché in classe con me C'erano due miei amici Che ballavano già da prima E quindi ero curiosa Ho voluto provare E ho iniziato così Cioè proprio iniziato Quasi come un gioco Sì Quasi come un gioco Ma come poi è diventata La tua passione Quanto tempo ti alleni? Perché tu devi studiare In più allenarti Allora io mi alleno Due volte alla settimana Il martedì e il mercoledì sera Poi devo incastrare tutto Anche con il nuoto Che ce l'ho al venerdì Pure nuoto fai? Sì Ma sei campionessa anche lì? No No Ah ok No perché se no Ho detto è no Sono giovani Belle Poi sono pure così brave Sportive Ho detto Mi tolgo il microfono E me ne vado E poi devo fare anche comunque Tutti i compiti Le verifiche È un bel impegno È quello che voglio L'impegno per arrivare Comunque ad ottenere Dei risultati Anche a vivere Le proprie passioni Servono anche i sacrifici Sì Perché il sacrificio Poi ti aiuta Forse a apprezzare Ancora di più le cose Giusto? Sì Allora raccontami Raccontami la prima volta Allora innanzitutto Il ballo da sala Spiega bene com'è Dopo vedremo il video Ma spiegacelo tu Ok il ballo da sala È un tipo di ballo Che si può avere Nella disciplina Che faccio io Sono tre balli Il valser lento Il tango E il foxtrot Quindi sono un mix Di balli Praticamente Quindi un mix di balli E tu balli Non sei da sola Balli in coppia No Balli in coppia Con il mio ballerino Jacopo Che abita vicino a me Che abita vicino a me Quanti anni ha Jacopo? Ha la mia stessa età 12 anni Sì Giovanissimo Che essendo La giornata dedicata alle donne Noi proviamo tutti Non l'abbiamo invitato Però adesso Vedremo un video Dove si vedrà anche Jacopo E guardate Quanto è bella Questa ragazza Bellissima Vediamo il video Grazie Massimo Del video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Dopo fa un po' male Quindi devi stare Devi mantenere Quella posizione lì Carlotta Ma i vestiti Ma sono bellissimi Ma li scegliete voi? Sì Si può scegliere Il modello Il colore Poi c'è la sarta Della scuola Ma sono tutti Più o meno così Giusto? Sì In base Poi alla categoria Se si sale Anche un po' di più Si possono aggiungere Magari dei brillantini O delle cose così Se si sale Se si sale Di categoria Quindi dovete fare Praticamente anche voi La gavetta L'inizio i vestiti Sono così e così Poi andando avanti Tutte tempestate Di perle preziose Bene Ma quel video Che abbiamo visto È un video Di una giornata Molto importante Ce lo vuoi dire tu? Era il 16 luglio Del 2017 Quando abbiamo vinto I campionati italiani Ero molto emozionata Quel giorno Infatti non ce lo aspettavamo Di vincere Perché era il primo anno Che gareggiavamo Quindi eravamo Super ansiosi Raccontamila Quella giornata lì Carlotta Com'è andata? Il giorno prima Avevo fatto la pettinatura Perché comunque La mattina Noi avevamo Avevamo la gara presto Quindi La pettinatura L'abbiamo fatta Il giorno prima La sera prima Non riuscivo a dormire Perché ero molto in ansia Però poi Quando sei dentro Non pensi più a niente Ti rilassa talmente Poi ti piace così tanto Sì Quindi non è È come un gioco Sì Bello, bello Se pensi anche a tutti i giudici Che ti guardano Non fai più niente No Non fai più niente C'è proprio Ti rimani immobilizzato Non ti muovi più Ma per preparare una gara Di questo tipo Che sono i campionati Ricordiamo I campionati nazionali A Rimini Che si sono svolte nel 2017 Quante ore di allenamento Servono Insomma Allora Noi l'anno scorso Abbiamo aggiunto Due allenamenti in più Perché comunque Ci dovevamo preparare bene E abbiamo aggiunto Un allenamento Come quello del martedì L'abbiamo fatto il giovedì E poi abbiamo aggiunto Anche una lezione privata Quindi quattro allenamenti Alla settimana E le tue amiche Voi siete Siete un gruppo Siete partiti un gruppo Sì E cosa dicevano i tuoi Cosa dicevate tra di voi Eravate un po' Non c'è rivalità però Tra di voi No 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 Perché siamo tutti Di categorie diverse Chi fa un tipo di ballo diverso Oppure chi è più avanti Chi è più indietro Comunque Sì Cosa ti dà la danza Carlotta Tanta passione Tanta emozione E la mia vita Praticamente Ma che bello Bellissimo Una ragazza che ha già Le idee così chiare Così giovane E allora adesso Vediamo quel momento fatidico Il momento della premiazione Fai vedere bene Dopo la tua bella medaglia Ancora Adesso Massimo Grazie per mandare Il video della premiazione Bravo Bruno Ci siamo Noi sì Campioni italiani 2017 Della categoria 12-15 anni classici Ballo da sala E la coppia contrassegnata Dal numero 54 Vai Seconda posizione Della coppia contrassegnata Della coppia contrassegnata Mamma Carlotta Sono emozionata io Vederlo Cos'hai provato quel momento lì Si è fermato il cuore Sì Fai vedere Fai vedere bene Questa medaglia Campionessa nazionale Balli da sala Categoria 12-15 anni 2017 Ma brava Grazie Bravissima Carlotta Brava brava Tuoi progetti per il futuro? Allora Il mio sogno Sarebbe di continuare a ballare E salire di categoria E poi comunque volevo anche ottenere un diploma in estetica Perché anche lì è la mia passione Bello E ce la farai Grazie Ce la farai Anzi cosa fai? Ti trucchi e ti sistemi direttamente Ecco perché è questa passione qua Giusto? Grazie Carlotta E adesso veniamo a parlare invece Abbiamo parlato dell'arte della poesia Della scrittura Dell'arte del ballo Con Carlotta Adesso vediamo con l'arte del canto Con lei Il mio usignolo Letizia Merlo Ciao ancora Laura Anzi io continuo a chiamarti Leti Letizia Perché noi non facciamo mistero Ci conosciamo già da qualche tempo Abbiamo anche collaborato insieme Però c'è stata una novità Perché tu da qualche tempo Non sei più Letizia Merlo Ma chi sei? Esatto Sì proprio nelle ultime settimane Ho deciso di chiamarmi Joy Proprio perché Prima mi piace il suono di questa parola Secondo perché È proprio la traduzione del mio nome E tra l'altro pure scoperto Che Letizia in Inghilterra In America Insomma In altri paesi Joy è proprio Letizia Si dà Joy come Letizia O Letizia In Spagnolo Bello E quindi è per quello Lei hai mirato Hai mirato Hai fatto solo una traduzione Esatto Esatto Semplice Allora dopo vedremo anche te Un tuo video Per faremo capire anche tu Quanto sei brava Beh Una bellissima ragazza Grazie Tu Vabbè Si può dire l'età? Sì dai diciamola Sei giovanissima No no Beh quasi 21 Quasi 21 anni Quindi Hai preso già delle decisioni Però facciamo Un passettino alla volta Quando è nata Anche per te Faccio questa domanda Qual è la tua passione Per quest'arte del canto Del bel canto? Certo Allora Innanzitutto Senza accorgermene Mi è sempre piaciuto Cantare anche in casa Quando avevo 4 anni Probabilmente i miei genitori Si sono resi conto Di questa cosa E poi un bel giorno Io e mia mamma Non avevo neanche 13 anni Anzi mi ricordo ancora Era esattamente 9 anni fa A marzo Io e mia mamma Stavamo passeggiando Per Villa Santa Appunto Il paesino dove viviamo E c'era un manifesto Di fronte a questa casetta gialla Che era la scuola di musica Del mio paese C'era scritto Per maggiori informazioni Corsi di canto Eccetera eccetera E mia mamma Mi ha posto questa domanda Lei ti vuoi iniziare? Vuoi fare una prova? Io ero lì Mamma Ti tubate Ti ansia Un po' ti tubate Ma ho detto Proviamo no? E allora niente Iniziato Il venerdì Ogni venerdì E pian piano Ho iniziato a costruire Questa cosa Inizialmente come hobby Ma anno dopo anno È diventata La mia vita La mia passione Più grande E la mettevo La musica Il canto La mettevo sempre Al primo posto Anche perché Era proprio Uno sfogo personale Uno sfogo Tu pensa Veramente queste storie Che comunque Si intrecciano Perché Anche per Anna La poesia Era un momento Di sfogo Un momento di Proprio anche Aveva bisogno Di scrivere Tu hai bisogno Avevi bisogno Proprio di sfogarti Cantando Poi la stessa cosa Che accomuna Con Carlotta È la mamma La mamma Le ha inculcato La passione Per la danza La mamma Ha inculcato a te La passione Per il canto E quel cartello Che casualmente Ma non è un caso Era lì pronto Che ti aspettava Bellissime Queste Queste storie Esatto Ma ascolta Letizia Adesso quanto tempo Impieghi Perché Mi sembra un po' Che come la canzone Io vivo per lei No? Quanto tempo impieghi Per esercitarti Perché ci vuole anche Un esercizio Come per Carlotta Certo Perché alla fine Le corde vocali Sono un muscolo E quindi bisogna Tenerle allenate Ogni giorno Infatti canto ogni giorno Ma anche senza accorgermene Comunque Ora sto finendo La mia accademia Lizard Di canto Mi mancano due esami Poi prendo il diploma E E vado Una volta a settimana Alternata Una è Una lezione singola L'altra polivocale Quindi Diciamo Corro in poche parole E un'altra Che è il sabato Solitamente Ci alleniamo Proprio come band Per poi andare a suonare In giro E' proprio divertente Divertente Vai lì E ti sfoghi Poi ovvio Ci sono anche le lezioni Di teoria Musicale Teoria armonia Perché ovviamente Anche se la teoria Si odia Va beh Fa parte del job Il pacchetto Lo devi Esatto Il pacchetto Lo ha preso completo Ascolta Letizia Quindi tu fai parte Di un gruppo Si Faccio parte Allora Ho la band Dell'Accademia E adesso Diciamo che C'è un progetto Un progetto metal La band si chiama Maze of Heaven Sono stati Sono appena usciti Due singoli Il primo ad ottobre Chiamato Dreams E il secondo A gennaio Il 21 gennaio Chiamato Heavy Metal Busted E niente Il progetto sta andando avanti Siamo tutti determinati E pronti Per l'uscita Dell'album Che sarà A fine anno Diciamo Tra Insomma Circa settembre Siamo tutti Presi bene Siete tutti Gasati Come diciamo noi giovani Siamo tutti gasati Ma Ascolta Letizia Ho sentito già che Due o tre pronunce In inglese Le hai detto proprio Stile madrelingua Perché tu Proprio per la musica Hai preso una decisione Che ad un'età così giovane Effettivamente Non tutte le ragazze Prendono Che cosa è successo? Allora Un passaggio fondamentale La cosiddetta Epifani Della vita Perché Dopo aver concluso Gli studi Al liceo artistico Avrei voluto fare Design Ma Fortunatamente O sfortunatamente Dipende dal punto di vista Non sono passata Dipende dal papà Che cosa dice? A lui Non sono passata Quindi ho detto Benissimo Io qua non voglio stare Prendo Vado all'estero E ho passato Sette mesi a Londra Come ragazza alla pari Quindi Hai migliorato Ancora Lo farei 300 miliardi di volte Ancora E niente E lo consigli Insomma È un passaggio Che va fatto Secondo te Lo consiglio Lo consiglio Perché Fa crescere Davvero Fa crescere Fa crescere Fa crescere E un'altra cosa E un'altra cosa Poi quando sono tornata Da Londra Mi son detta Benissimo Io amo la musica Però Voglio anche Provare l'università Benissimo Ho iniziato l'università Ma non riuscivo A tenere A tenere Entrambe le cose Quindi Dato che davo priorità Alla musica Ho capito Che probabilmente Quello che veramente Voglio nella mia vita È fare la musicista E Anche perché Tu sei cantante Io ho detto Sei cantante Però Ho messo Una cosa Molto Importante Tra l'altro Vedevo Quando parlava Anna Che tu annuivi Quando gli dicevo Della poesia Perché tu Sei anche Un'autrice Sì Sì Scrivo Scrivo testi Non Li scrivo in inglese Perché in italiano Non ci riesco Tu pensa E anche È anche come una sorta Di maschera Probabilmente Perché Magari Madre lingua Italiana Uno dice No Voglio mascherare Quello che dico Probabilmente E quindi Hai deciso Di fare anche Questo Questo passaggio Esatto Sai cosa ti dico Visto che abbiamo parlato Adesso invece Ti ascoltiamo Noi Letizia Merlo In arte Joy You are not Me Anymore And there's a Weed of Life Upon Your face No I can't Look Into Your eyes And I never Thought Could be So Simple When we wake For us No It never Begins For us It never Ends For us No It never Begins For us It'll never Ends For us No It never Begins For us It never Come For us No It never Begins For us Standing In a Never Ends For us In a Love Joy, sei fantastica, complimenti davvero, emozionante, complimenti davvero, sei una cantante, una musicista tutto tondo, bravissima, l'ho detto in tempi non sospetti, lo ridico secondo me, ne sentiremo parlare, ne sentiremo parlare. Ascoltami, a noi emozioni, a te invece la musica cosa ti dà? Quando canti che cosa ti dà? Tutto, nel senso che è uno sfogo, sono me stessa, sono su un palco, sto suonando, sto cantando, trasmetto quello che provo in quel momento, quindi io magari non riesco a trasmettere con parole o a gesti o con certi modi di fare ma ti canto un qualcosa e capisci subito. Bello, bellissimo. Come ho chiesto a Carlotta, cosa farai da grande? Il mio sogno è trasformare questa passione in professione che è quello che sto cercando di fare da qualche mese. Noi te lo auguriamo davvero, lo auguriamo a te Joy, lo auguriamo a Carlotta, perché siete veramente, io sono contentissima di aver scelto voi tre proprio a parlare delle vostre storie, perché sono veramente un esempio bello, un esempio vero di come la passione fa fare tante, tante cose belle e come la tenacia, non è solo la passione, perché voi ci mettete l'impegno, voi impegnate il vostro tempo per raggiungere i vostri sogni e questa è la chiave forse proprio di lettura della vita, ci vuole un po' di sacrificio, però bisogna inseguirli veramente i sogni perché ne vale la pena. Io sono contentissima di avervi avuto e poi devo fare i complimenti sia naturalmente a Letizia, sia ad Anna, però sono già più grandicelle, ma io il complimento lo faccio a Carlotta, ha 12 anni, sei riuscita e era agitatissima, invece una disinvoltura di una vera professionista. Grazie, ragazze, grazie ancora a Letizia Merlo in arte Joy. Grazie, grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti, grazie di questa opportunità davvero, è stata una bellissima esperienza. Per noi è un onore parlare di storie di giovani, giovani ragazzi, che si parla sempre male di sti giovani, ma guardate che cosa abbiamo qui, sono giovani, altro che parlare male, siete eccezionali. Grazie mille. E grazie alla bravissima e bellissima Carlotta Mariani per la danza, ringraziamo ancora che ha dovuto andare via, Anna Martinenghi per l'arte della poesia e della scrittura e sapete cosa vi dico ragazzi, dobbiamo farlo a tutte le altre. Vi diciamo auguri buona festa delle donne, mi raccomando. Grazie ancora, noi ci rivediamo settimana prossima e sempre occhio al prossimo evento. Ciao, viva la donna! Ciao, ciao!